Sabato notte Nanà, ci avviciniamo una settimana piena, con regna di appuntamenti, a partire da 23, al 23 giovedì prossimo, parte il primo appuntamento, Nanà, in collaborazione con il GECO, al centro di San Bernardo del Pronto, giovedì 23, GECO, 360 gradi, boom boom, la grande notte CECO, in quale condizioni con Nanà, il nuovo giovedì, il nuovo giovedì dell'estate 2009, un altro grande appuntamento, sempre firmato Nanà, alla giovedì, giovedì 23, c'è un gruppo di benvenuto a tutti i presenti, quindi mi raccomando non mancate, un grande appuntamento è la notte del primo agosto, la notte bianca, San Bernardo del Pronto, nessun dorma, la notte bianca, San Bernardo del Pronto, in collaborazione con il Nanà, altro appuntamento da non perdere, assolutamente, a musica, in controllo, Nanà presenta, signori e signore, Mr. Giro P, DJ, la musica! Nanà, la collina, l'università! Nanà, la cosina, l'università! Nade, la psicologia! Nanà, la ragione! Nanà, la cosina, e internet! Non, non, la cosina! Sì, 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 sì Sì